che vogliamo fare vabbè la vita non lo so c'è una zona più alta della mappa ma ci avete fortini no allora abbiamo perso guarda, non ci spuglia no, non ci spuglia, io sono già dentro ma c'è spugliata ma c'è un line safe però che tamca cello quelli laggiù? stanno restando, stanno restando puts un po' c'è 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 a c'è un po' c'è 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 la l'ho messo a terra anche il minato il minato o tiratemi su ora tiratemi su raga mette il contro uno di che stiamo parlando e no questo è un attimo e nell'acqua nella ora ho preso il colo dov'è dai va sciottato in aria qui a 2 di vita a 2 di vita ehi cazzo ehi ma che è ehi ma che è a dove è a dove a dove a dove e muori o io ho fatto via allora due vittorie della buonanotte buonanotte io gli ho fatto la vittoria pacifista tra l'altro non ha mangiato nessuno buonanotte buonanotte